Amici di Directa Sport, buon pomeriggio in diretta dallo stadio comunale di Arborea da Enrico Mulas, in diretta grazie alle immagini di Marcello Montis per raccontarvi la sfida valevole per la settima giornata del campionato di sede C femminile, girone B fra Atletico di Stano e WFC Venezia Calcio. Spicchiamo uno schermo, malvestio in mezzo, spiga vuoto, palla che rimane lì, sulla linea e poi il salvataggio miracoloso di Farris. Riliscio, attenzione, perché prova ad approfittare in Venezia di questo errore, il tiro, spiga, ton on, palla fuori. Sì, ovviamente per tasso, questa volta il suo passaggio, però no capo col tacco, sempre verso tasso, palla che favorisce Marangon che prova il tiro, palla fuori. Sede di ripaglio, testa, testa, fine, il pallone è per la numero 10, contro con Filippo, alla pari, ottimo scala, attenzione, che trova Mazzana, Mazzana ancora. Mazzana prova il tiro e si allunga, paccagnella, numero 31, Friola, l'apertura, è bella attenzione. Per la giocatrice, per l'anno di entrata, Toffoli il tiro, è la parata di Biga, che fette il suo primo, vero e proprio intervento della partita. Qui da Ciolo, di questa battuta due, le reti siate in campionato, una prova nell'ultima partita. Qui da Ciolo, la parata, sicura di paccagnella. Non può arrivare però nessuno degli attaccanti del Venezia, nessuno però neanche dell'Oistana, attenzione però a Conventi, che si presenta davanti a Piga Conventi. Che parata di Piga! Che nega, secondo grande intervento del numero 99 con Marras, che poi in lunga, bene, verso Capparelli, che si impegna a tenere il pallone però è sola, a tenere l'arrivo delle compagne. Salta il primo avversario e poi la rigioca, sempre per Marras che riesce a saltare anche lei l'avversario. Marras in mezzo, Murato, ancora Marras, ancora Capparelli, 1-2, con la numero 21. Il tiro! È la paratissima, sul suo palo, a mano aperta, di Paccagnella. Ottimo, l'intervento di Parvischia, la spizza, poi donate basta a far sì che Conventi non riesca a nulla, che mi rovescia la differenza, però a Marras. Amarangonti, è la parata di Piga. Conventi, il tiro, Piga! Che parata di Piga! Finisce così, e anche il secondo tempo... Finisce così, e anche il secondo tempo...